5 ordinanze di custodia cautelare sono state notificate a 5 esponenti della famiglia camurristica napoletana dei Buonerba vicino al clan Mazzarella. Si tratta degli organizzatori, dei mandanti e dei killer del baby boss Emanuele Sibillo, il giovane di neanche 20 anni, il cui corpo senza vita venne lasciato davanti al pronto soccorso dell'ospedale Loreto Mare di Napoli la notte tra l'1 e il 2 luglio del 2015 durante la faida che ha insanguinato Forcella e il centro storico di Napoli. Si tratta di Antonio Amoroso, 22 anni, Gennaro Buonerba e Luigi Criscuolo, di 24 anni, Andrea Manna, 40 anni e Vincenzo Rubino, 23. I 5 destinatari delle misure cautelari emesse dal GIP di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia sono ritenuti responsabili anche del tentato omicidio scattato il 29 giugno del 2016 ai danni di tre minori all'epoca dei fatti, tutti ritenuti appartenenti al gruppo camorristico dei Sibillo, nota come l'apparanza dei bambini, retta da Emanuele e dal fratello Pasquale, arrestato a Terni dalla polizia. Gli agguati rientrano nella guerra di Camorra del 2015 tra gruppi criminali antagonisti delle zone di Forcella. La faida tra la famiglia camorristica Buonerba, che si è autoproclamata i ribelli di Via Oronzo Costa, e le famiglie ammiranti Brunetti, Giuliano e Sibillo, culminate in agguati, stese e uccisioni tra Forcella, la Maddalena e i tribunali, fu innescata dalla contrapposizione nata per il predominio delle piazze di spaccio e delle estorsioni nel centro di Napoli. Dalle indagini della squadra mobile e della questura partenopea, è emerso che il pizzo veniva imposto anche ai parcheggiatori abusivi, oltre che ai titolari di note pizzerie del centro storico. Con l'omicidio di Emanuele Sibillo, il gruppo De Buonerba prese il sopravvento. Determinanti sono risultate per l'attività investigativa le intercettazioni, le riprese video e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Maurizio Vera, il quale ha confessato di aver partecipato all'organizzazione dell'omicidio del baby boss, ospitato i complici a casa sua.